Ciao! Eccomi oggi ragazze con un nuovo video spacchettamento, questa volta i verchè. Ricominciamo con i video 2016 di spacchettamento. È un ordine piccolino perché ho ordinato alcune cose per me, non avevo richieste dalle mie 2-3 solite clienti. Io non ho molti clienti i verchè, lavoro più che altro con parenti e alcune persone, ma siamo in, diciamo, non più di 3 persone che mi acquistano solitamente. Vabbè, un po' il mio ragazzo, però, vabbè, mia sua c'era, ma niente di che. Quindi io acquisto anche per me solitamente e oggi, appunto, l'ordine è tutto preso da me. Arrivata allora la fattura, sono ancora vestita dal lavoro di stamattina, non mi sono nemmeno cambiata. Sono arrivata a casa adesso che sono stata a fare dei giri e non ho avuto tempo, quindi sono anche struccata, mettiamoci in chiaro, comunque vabbè. Allora, mi hanno mandato l'album 1 da cui ho fatto l'ordine e il nuovo album 2 con colore brillante, luminosità estrema, in copertina e rossetto. Questo qui, che va in vigore, dunque, dal 3 febbraio al 23. Allora, ok, poi, intanto ci sono le bustine scoppiettanti. Ok, mi sono divertita abbastanza. E i prodotti non sono tantissimi, comunque inizio a mostrarvi. Allora, ho ordinato questo dotter per fare le decorazioni con le unghie e al momento io non mi sto facendo lo smalto perché me le mangio, non le scoppio a smettere. E però faccio le unghie ad alcune mie colleghe di lavoro, molte volte mi chiedono di fargli le semi permanente o comunque disegnini sulle unghie e quindi ho preso questo dotter qui, che adesso vi apro. Perché io ne avevo già uno, che però ha incorporato un pennello. Allora ho deciso di prendere questo, che è di metallo, ma è fatto bene. Se riesco ad aprirlo bene. Allora. Sì, forse ce la faccio. Arrivo, eh. Ci sono. Eccomi. Allora, il dotter è fatto così. Ha una e due. Due estremità. E così. Poi. Ho ordinato un po' di shampoo per fare scorta del mio preferito, quello all'avena bio. Nutriente, che è spettacolare, spettacolare. Fa dei capelli morbidissimi e poi io amo il profumo dell'avena, per cui non ne posso fare a meno. E ne ho ordinati 4 a 3,95€ l'uno, come al solito. Poi, ho ordinato invece per il mio ragazzo, perché fra pochi giorni compie gli anni, in più ormai si avvicina a San Valentino e quindi ho pensato di fargli due regalini. Uno l'ho già acquistato in un negozio di abbigliamento, in più gli aggiungo dei prodotti brochet, così faccio il regalo di compleanno e San Valentino insieme. E ho deciso di prendergli questo set che comprende il Common Evidence Home d'Adorante, questo qui in spray. Ed è da 100ml di prodotto. Poi, il gel doccia, per il corpo appunto sì, da 200ml. che è molto buono, questo qui. E il profumo Common Evidence da 75ml, ed è un eode toilette. Questo qui. Volevo guardare... Comunque vi dico il prezzo del set perché non mi ricordo. Ed è... Dunque... 34,95€. Questo è il set. Quindi, insomma, una cifra abbordabile per un bel regalo completo. E quindi questo è il set. Per finire, ho acquistato due prodotti della linea Sensitive Vegetal che sono l'acqua micellare due in uno, lenitiva, 200ml. Questa è la prima volta che l'acquisto. Io, come acqua micellare, utilizzo quella della Garnier, che mi trovo benissimo. Però, ho deciso di... Dato che facevo l'ordine, di acquistarne una di questa linea qui. Da portare al lavoro quando dormo a casa del mio ragazzo. Perché quando lavoro dormo da lui, dato che il lavoro mio è a casa del mio ragazzo. Però vabbè. E quindi quando mi strucco devo avere i prodotti del struccaggio anche a casa del mio amoroso. Quindi porto questo. Poi, per finire, ho la crema Sensitive Vegetal. Idratante, lenitiva. Questa è da giorno. Perché? Perché io l'avevo appena acquistata, che non è molto, se vi ricordate. Ma mi è caduto per terra il vasetto. Si è frantumato sopra. C'è in mille pezzi. E quindi c'è il vasetto che taglia. E mi è andata via quasi mezza confezione di crema per terra. E ho dovuto praticamente cacciarmi a metà della crema senza averla usata. Semmai l'avrò messa una o due volte. E poi mi è cascato il vasetto. Quindi proprio sfortuna totale. E allora, dato che il vasetto è tutto rotto, che cosa tengo? Una crema mezza rovinata. Ho detto vabbè, ne compro un'altra. Tanto costava 7,95 se non sbaglio. E quindi è un prezzo buono. E poi mi piace molto la profumazione. È molto delicata. Per il viso sensibile è perfetta. Ed è anche dermocalmante. Quindi fantastica. E niente ragazzi, questo è tutto. Il video finisce qui perché non ho più prodotti da mostrarvi. Spero che vi sia piaciuto. Un bacione grandissimo. E al prossimo video. Ciao! Ciao!